Questa è Casa Italia, meta di giornalisti, atleti e ospiti della delegazione italiana che vengono a celebrare le vittorie, a farsi intervistare da noi e anche a mangiare. Non a caso, nel 1894, in questo edificio, si svolse la cena inaugurale dei giochi olimpici moderni. Per arrivare a Casa Italia bisogna attraversare il Bois de Boulogne, un bosco enorme nel cuore di Parigi. Bevi che la strada è lunga, vai. Il bosco è bellissimo, anche se ci stanno un sacco di bessie, tipo questa che non te ne accorgi e te ritrovi in faccia. C'è anche la ruota panoramica, ci sta pure la Gran Cascade. E' tanto verde per correre, passeggiare nella natura, fare picnic e altre attività. Solo che la sera poi è un po' buio. All'interno ci sono un sacco di opere d'arte e installazioni di artisti internazionali. Su questo muro sono stati ricamati tutti i grandi personaggi che hanno reso celebre l'Italia del mondo. Ci sta pure Totò. Di qua invece vengono affisse tutte le medaglie conquistate dagli atleti italiani. I campioni vengono celebrati ed è qui che noi giornalisti dobbiamo prenderci a gomitate per intervistarli. Nelle casette dei Puffi c'è la sala stampa dove possiamo scrivere e montare video. Ci sono anche i ledwall dove poter seguire le gare. E un sacco di belle serie colorate dove la gente si può rilassare, tranne noi che siamo sempre in giro. Seguiteci perché da qui arriveranno un sacco di contenuti interessanti. Grazie. 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 Grazie.